buongiorno a tutti bentornati nel mio canale oggi vi propongo un antipasto che è molto molto semplice ma sfizioso le caramelle salate ebbene sì perché chi ha detto che le caramelle devono essere per forza dolci andiamo subito a vedere insieme come si realizzano per fare le caramelle salate sarà sufficiente avere un ripieno io utilizzerò ricotta e spinaci però va bene un ripieno di qualsiasi genere e poi della pasta sfoglia che andremo a realizzare con 200 grammi di farina integrale 3 o 4 cucchiai di olio d'oliva e acqua tiepida quindi vado a mettere nella mia terrina la farina integrale potete anche utilizzare farina bianca ovviamente io adesso utilizzo integrale ma va bene qualsiasi tipo di farina poi andiamo a mettere un pochino di olio d'oliva se non vi piace l'olio d'oliva potete utilizzare anche l'olio di semi bisogna mescolare la farina e l'olio d'oliva e poi aggiungere gradatamente l'acqua tiepida una volta raggiunta una consistenza di questo tipo potrete andare a stendere con il mattarello una volta steso non preoccupatevi che sia perfettamente rotondo il mio come vedete è molto irregolare ma perché non ha nessuna importanza perché poi andremo a prendere una forma rotonda che può essere quella di una coppa del genere tipo le coppe per i budini o le coppe per il gelato insomma più o meno di questa grandezza e dovremo andare a formare dei tondini di questo genere quindi andiamo a prendere la forma io adesso penso che ne usciranno quattro al massimo cinque vi faccio vedere il procedimento poi voi potete fare ovviamente il numero di caramelle che preferite ok io ho fatto quattro cerchetti di questo genere io vi consiglio di mettere solo un cucchiaino di ripieno perché se ne mettete di più c'è il rischio comunque che fuoriesca anche se fate attenzione adesso che abbiamo messo bene il ripieno al centro dovete prendere la parte dietro della pasta e metterla in avanti in questo modo e attaccare leggermente i lati così in modo che il ripieno comunque non esca poi andate a prendere la parte davanti e andate a mettere sopra a la parte che avete appena messo schiacciate di nuovo un po i lati adesso prendete i lati prendete i lati della pasta in questo modo e stringete così in modo da formare appunto la cosa della caramella e fate la stessa cosa da questa parte quindi andate a stringere anche da questa parte adesso allargate leggermente i lembi esterni così in modo da formare proprio la caramella e vedete che abbiamo formato proprio una caramella salata perché è molto piccolina ha i lati qua stretti ai lati e i ventaglietti diciamo quelli che escono dalla caramella questo è il risultato queste sono le caramelle salate risultano così è sicuramente un'idea originale per un antipasto è qualcosa di creativo insomma di particolare fatemi sapere nei commenti se avevate già visto una cosa del genere se proverete a realizzarla io vi mando un bacio enorme ci vediamo alla prossima grazie